Il neocriticismo è una corrente filosofica che si è sviluppata in Germania intorno alla metà dell'Ottocento ed è una sorta di ripresa del pensiero kantiano e della filosofia critica. I filosofi neocriticisti estendono comunque la filosofia critica anche ad altri ambiti dell'esperienza umana, come ad esempio la morale e la religione, e rifiutano la metafisica e il positivismo, che allora era una corrente filosofica imperante. I maggiori rappresentanti sono suddivisi in due scuole. Nella scuola, nella prima scuola, ricordiamo Nathorp, Cohen e Kassirer, nella seconda scuola, fondata nel Baden, i maggiori esponenti sono Rickert e Wilkenband. Wilkenband